Ha avuto inizio ieri, con il primo allenamento svolto a Pregiato, la settimana di Cavese-Bari, una gara già attesa con interesse tra i tifosi bianco-blu per l'arrivo della compagine bianco-rossa. Al di là della rivalità che si è creata nel tempo tra l'una e l'altra tifoseria, i sostenitori di fede medelliana guardano con una certa curiosità questo Bari, che ha alzato la propria qualità tecnica e migliorato la propria organizzazione di gioco, ma non è ancora al primo posto in questo campionato di Serie C-Girone C, nonostante abbia nelle proprie file giocatori come Antenucci, Laribbi e Simeri. L'eventuale risultato utile contro il Bari, qualunque esso sia, sarebbe accolto dagli Aquilotti con favore. La Cavese è in centro classifica, al momento si trova al sicuro da ogni pericolo e ha una sua organizzazione nella fase di non possesso palla, perché ultimamente non sta subendo tanti gol. Però è incappata in una sorta di digiuno a livello realizzativo, non segna più da tre partite e l'ultimo gol lo ha realizzato Matino sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Campilongo ha lavorato bene sulla difesa, ma le poche occasioni che la squadra Aquilotta ha creato nelle ultime tre gare con Paganese, Catania e Avellino non sono state sfruttate. Confermata la squalifica di Germinale, una giornata di stop per cumulo di ammunizioni, ci saranno se non altro i rientri di Marzoratti e di Russotto. Quest'ultimo è un recupero fondamentale per il bianco-blu, per la fantasia in fase di costruzione, così come sarà fondamentale l'eventuale rientro di Cesaretti per sfruttare le situazioni di contropiede. Oggi doppia seduta per la Cavese. Domani pomeriggio test al campo sportivo Leo di Siano, dove la squadra Aquilotta era già stata in estate per svolgere alcuni allenamenti. Nel frattempo la Cavese Calcio ieri ha ritirato, presso la sala stampa dello Stadio Olimpico di Roma, un premio per il cortometraggio Segna con me, realizzato in collaborazione anche con l'Istituto Carducci Trezza sulla sensibilizzazione alla cultura sportiva.